Ciao belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. La storia di oggi ha come protagonista una strana foto che nasconde una storia piuttosto inquietante. Quindi preparatevi perché stiamo per entrare nello strano mondo di Devoni Escobar. Prima di cominciare velocemente, guardate che figa questa maglietta, ovviamente su Pampling la potete prendere lì. Usate il codice Andrew così avete dei calzini in omaggio, ok? Detto questo, cominciamo. Nella storia di oggi ci troviamo in Messico, il paese conosciuto da tutto il mondo per la sua cultura unica nel suo genere. È molto famoso per le persone che sono molto calorose e aperte, ma anche per l'ottimo cibo. Nonostante le sue innumerevoli qualità, è noto anche per il fatto che essere una donna all'interno di quel paese è sinonimo di correre un grave rischio. Negli ultimi anni infatti il numero di femminicidi in tutto il Messico è aumentato vertiginosamente e un caso recente ha portato l'attenzione pubblica verso questo fenomeno. Si tratta della inquietante scomparsa e poi morte di Deboni Escobar, una studentessa di legge di 18 anni che viveva in Messico. Questa fotografia apparentemente normale ritrae proprio Deboni. È stata scattata il 9 aprile 2022 e ad averla scattata è stato il suo tassista. La cosa macabra è che questa sarà l'ultima immagine a ritrarre la giovane ragazza in vita, che di lì a poche ore scomparirà. Ma che cosa è accaduto quella sera? Dobbiamo tornare un po' indietro per scoprirlo. L'8 aprile 2022 Deboni era uscita insieme a due sue amiche, Sarahi, che aveva conosciuto appena 4 mesi prima, e Yvonne, che invece era la prima volta che incontrava. Erano uscite intorno alle 11 di sera e avevano preso un taxi con un'app molto usata in quelle zone. Si stavano dirigendo a Monterrey. Il driver le aveva portate a Simon Bolivar, dove si erano fermate in un negozio per acquistare una bottiglia di vodka e poi dirigersi verso una festa. Come possiamo vedere dai filmati di quella sera, le tre ragazze sembravano spensierate e tranquille. Non c'era nulla di strano. Una volta acquistate le bottiglie, si sono dirette verso El Diamante. Chiamarono però un altro driver, usando sempre la stessa applicazione, e si presentò un nuovo autista, Joan David. Ragazzi, se non pronuncio bene questi nomi, scusatemi, non so... come si pronunciano. Arrivarono alla festa e Yvonne, prima di andarsene, chiese il numero a Joan, nel caso avesse avuto bisogno di un passaggio per tornare a casa una volta che la festa fosse finita. Nel caso avesse avuto bisogno di un passaggio per tornare indietro. Soltanto 10 minuti dopo essere arrivate, però, le telecamere riprendono Deboni lasciare la festa da sola, per dirigersi verso una zona esterna, nella quale c'era la piscina del locale. Le telecamere ripresero anche un gruppo di ragazzi che si erano voltati mentre lei passava, e sembra che le abbiano detto qualcosa dalle riprese. Poco dopo, Deboni ritorna nel locale, ma comincia a comportarsi in modo strano. D'un tratto si era chiusa nel bagno degli uomini e aveva iniziato a urlare. Loro cercavano di farla uscire, ma nulla. Una volta uscita diceva cose strane, accusava Yvonne di averla lasciata da sola, e aveva iniziato a fare scenate per tutto il locale. Le amiche, visto il suo comportamento, decidono quindi che sarebbe stato meglio per lei tornare a casa. Scrivono a Joan, e gli dicono di venirla a prendere per portarla a casa. Alle 3.45, le telecamere riprendono questa scena, nella quale vediamo Deboni intenta scappare da un ragazzo, per poi dargli degli schiaffi e dei calci. Dopo poco, si vede arrivare anche un altro gruppo di persone, tra cui anche Sarahi e Yvonne. Non si capisce molto bene che cosa stia accadendo, ma sembra che il gruppo che è arrivato dopo, cerchi di mettersi intorno a lei per non farla andare via. Alle 3.54, Joan arriva davanti al locale, e un'altra telecamera riprende il momento in cui Deboni entra nel veicolo. Riprende anche le sue amiche a parlare con l'autista prima di lasciare il locale e dirigersi ad est. Alle 4.17 del mattino, una telecamera di sorveglianza ha ripreso questo filmato del taxi fermo in un luogo poco distante da dove si trovavano prima, nel quale Deboni si era spostata nel sedile anteriore, e sembrava avere una discussione animata con Joan. Dopo questa registrazione, i due hanno continuato la strada per un paio di minuti, fino ad arrivare all'autostrada di Laredo, nella quale Deboni disse a Joan di accostare. Lui lo fece, quindi lei uscì, e si mise in mezzo alla strada senza dire nulla. È proprio in quel momento che Joan scattò la famosa fotografia. A questo punto il taxista manda alla sua amica le foto di Deboni insieme ad alcuni messaggi vocali, nei quali diceva che se ne sarebbe andato, perché la sua amica si rifiutava di risalire sul taxi. Rimase comunque in contatto con Yvonne per i successivi 45 minuti, perché si sentiva in colpa per averla lasciata in quel luogo, dicendole che se avesse provato a toccarla o forzarla ad entrare dentro al veicolo, avrebbe subito delle ripercussioni legali. Quindi insomma non vide altra via d'uscita, se non andarsene. E dopo che Joan se n'è andato, nessuno vide più Deboni. Una telecamera a circuito chiuso, molto lontana dalla festa, la ripresa mentre camminava in modo strano in mezzo alla strada, ed era diretta a Escobedo. Poco dopo viene ripresa da un'altra telecamera di sicurezza, quella del motel Nuova Castiglia. Nei filmati si vede Deboni correre freneticamente, come se stesse scappando da qualcuno. Guardava attraverso le finestre del ristorante, cercando di forzare le serrature per entrare. Dopo essere uscita dal campo visivo delle telecamere, a quanto pare si sarebbe nascosta in un angolo del giardino del motel per circa 20 minuti. Poi venne di nuovo ripresa a camminare lungo un muro. Questo sarà il suo ultimo avvistamento. La mattina successiva, i genitori Mario e Dolores Escobar denunciarono la scomparsa di loro figlia, e iniziarono ufficialmente le indagini. Il primo sospettato fu ovviamente Joan, che era stato l'ultima persona ad averla vista in vita. Il padre era convinto che ci fosse lui dietro alla scomparsa di sua figlia. Secondo lui, in questo filmato, Joan stava afferrando in modo violento Deboni, e sarebbe per via di questo che lei se ne sarebbe andata dal veicolo. Joan ha quindi dovuto spiegare l'accaduto pubblicamente. Andò in un programma televisivo nazionale, dicendo che era vero, che l'aveva afferrata, ma l'aveva fatto per proteggersi, perché Deboni, secondo lui, era ubriaca o drogata, e aveva cominciato a diventare aggressiva nei suoi confronti. Diceva che lui continuava a chiederle il numero di sua madre o il suo indirizzo, ma lei si rifiutava di darglieli. Uscirono pubblicamente dei messaggi privati tra Joan e Yvonne, nei quali lui effettivamente le chiedeva l'indirizzo della sua amica, perché lei appunto si rifiutava di darglieli. Yvonne rispose che non lo sapeva, perché si erano appena conosciute quella sera, ma gli disse anche che non voleva che la riportasse alla festa. Le ricerche quindi continuarono per 12 giorni, senza nessun risultato. Il 21 aprile però, gli agenti tornarono nell'hotel, in cui erano state riprese le registrazioni di Deboni che correva. Erano tornati perché il personale si era lamentato di un odore sgradevole proveniente dal ristorante, che però era fuori servizio. L'odore proveniva da un serbatoio dell'acqua sotterraneo. Vi ricorda qualcosa? Era un'area inaccessibile al pubblico. Purtroppo, dopo aver guardato in uno dei serbatoi, agli agenti si presentò il peggior scenario possibile. In fondo al serbatoio vi era il corpo senza vita di Deboni, straiato a faccia in giù. Dato che era stata lasciata per quasi due settimane in una vasca calda e umida, il corpo era irriconoscibile ed è stato necessario identificarla, grazie ai vestiti che indossava e alla sua collana. Inizialmente la polizia del luogo avanzò l'ipotesi che Deboni sia caduta accidentalmente nella vasca, sbattendo la testa per poi non riuscire più ad uscire e quindi morire affogata. Ma la famiglia semplicemente non l'accettava. Il secondo rapporto indipendente, molto più dettagliato, ha rivelato che in realtà era stata più volte colpita dalla testa con un oggetto contundente, da diverse angolazioni. Non fu trovata nemmeno acqua nei suoi polmoni, quindi era già morta prima di finire là dentro. In una vasca vicina furono trovati alcuni suoi oggetti, tra cui le sue scarpe, la sua borsa, una bottiglietta di disinfettante per le mani e il suo accendino. Le cose quindi non tornavano, perché o li avrebbe buttati prima di cadere accidentalmente all'interno della cisterna, o qualcun altro, e aveva gettati per nasconderli. All'interno di una seconda cisterna furono trovati anche altri oggetti, tra cui un reggiseno bianco, una borsetta nera e dei pezzi di tessuto beige di cui ancora non si conosce la provenienza. Successivamente, pensato un po', si scoprì anche che l'ufficio del procuratore generale aveva intenzionalmente nascosto queste informazioni sul caso di deboni e questa cosa accade spesso per non far trapelare l'ennesimo omicidio di una donna. Ancora prima che i resti fossero scoperti, la storia di deboni era diventata un caso mediatico in Messico. Centinaia di migliaia di persone condividevano l'immagine della giovane su Instagram, Facebook e Twitter. Quando fu ritrovato il corpo, i media continuarono a parlare del fenomeno delle donne scomparse, in particolare nello stato del Nuovo Leon. Solo pochi giorni prima, infatti, erano stati trovati anche il corpo di una 27enne, Maria Fernanda Contreras, e di un'altra ragazza di 26 anni, Yolanda Matinez. Durante la ricerca di deboni, inoltre, sono stati scoperti anche i resti di altre 5 donne. Questo dovrebbe farvi capire quanto sia grave il problema in quel paese. Non che qui non ci sia, eh. Ma comunque, dopo che è stata annunciata la notizia della morte di deboni, migliaia di manifestanti sono scesi in strada, bloccando l'autostrada nella quale era stata scattata la foto ormai famosa, chiedendo quindi giustizia per le decine di migliaia di donne uccise, o scomparse negli anni. Per darvi qualche dato, si stima che soltanto in questa prima metà del 2022, siano scomparse 1.600 donne. 56 sono state uccise soltanto in Nueva Lyon, e a livello nazionale vengono uccise ogni giorno circa 10 donne. Secondo un rapporto stimato dalle Nazioni Unite, almeno il 95% di questi casi rimangono irrisolti, e il fenomeno per fortuna sta incominciando ad attirare l'attenzione internazionale. Quindi, eccomi qui a parlarne. Nonostante queste terribili statistiche, il caso di deboni ha guadagnato un'enorme quantità di attenzione, e le autorità sembrano lavorare duramente per risolvere il suo caso. Anche insieme al presidente stesso del Messico, che giura che il colpevole verrà trovato. E questa, ragazzi, era l'inquietante storia di oggi. Che cosa ne pensate? Chi è stato ad uccidere deboni? E perché l'ha fatto? Sembra l'ennesimo caso enigmatico che mi ha ricordato per qualche verso il caso di Elisa Lam. C'erano delle riprese. C'era lei che sembrava impazzita, che sembrava che qualcuno la stesse seguendo. E poi, il suo corpo ritrovato nelle cisterne dell'acqua. Forse l'omicida di deboni sia ispirato al caso di Elisa Lam? Queste sono solo mie supposizioni. Purtroppo ad oggi, queste sono tutte le informazioni che abbiamo. Quando le indagini proseguiranno e verrà trovato un colpevole, ovviamente, ve lo farò sapere. Ma adesso, ragazzi, è arrivato il momento di ringraziarvi per aver visto questo video. Spero vi sia piaciuto e, come al solito, vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro fire. Ciao! Ciao!